Udi! 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 Guarda la vita! Scampeone! 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 Ragazzi! Vi faccio vedere la vita! Scampeone! Andiamo dopo i soldi! Mauro! Mauro! Scampeone! Servizio! Vincendo la cartella! Pappa! 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 Pappa, Pappa, Pappa! Maia! Celestina! E passava di lui! Pappa, Pappa! Amico! Vincendo! Vi faccio vedere! Campione dei pesci minimi, campione dei pesci maximi! Tutti, tutti, tutti! Allora, scappé! Cosa? Quando mi siete saliti sopra, peggio di merda, quando fate una girocchia della testa? Sì, non ho fatto dispera! Cos'è qui? Cos'è qui? Ecco, le riparte! Guardate! Guardate! Ragazzi, fatevi l'esplosione dalle campagne! Vamo! Andrei a cantare! Guardate! 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 Uuuuuh! Adesso, come lo sappiamo, allora, alla fine... Paolino è uno di noi! E' Paolino uno di noi! E' Paolino uno di noi! Ma ti ho visto prima di entrare al Borsevino? Ma sai sparappi? Ma il Mascani sai sparappi? Ma ne rimane i campelli, perciò tre, Mi hai avuto in mente! Ma per gli altri quattro... Ho le tasca, che cazzo! Sono le tre e un quarto, ci siamo rimasti noi, sono le due, questa piazza E' vuota! Ridente, sorridente! Con te, cameraman! Ubriaco solo lui? No, ubriaco solo lui! Non c'è anche Iberia che si vinta è! Però abbiamo vinto un campionato! In un'impresa... The Champions! In vent'anni di carriera è la prima volta! La prima volta che vinciamo un campionato! E' stato difficile! Vent'anni di carriera! Vent'anni di carriera? No, insieme! Vent'anni insieme! I cento punti presi di colanda! Oddio no, aspetta, ho anche io! Forse anche 35 anni! Con te vent'anni passa di carriera! Ron Sasetale ha vinto anche il campionato! Io l'ho vinto uno! Due campionati vinti in tre! Ci siamo! Però è un'emozione importante! Champions! Unica! Che si vede anche qua! E quindi vi diamo la buonanotte! Fan di Cagli Basketball! 3.20 siamo nella piazza Matteotti di Cagli! Siamo in piazza! Adesso andiamo a dormire! Intervista a due! Intervista a due! Sì!